Siamo veramente in dirittura d'arrivo e quindi posso raccontare quello che sarà questo percorso enogastronomico, questa festa popolare, come ci piace definirla. Ci saranno al taglio del nastro i gruppi di cittadini di San Rufo che ci hanno permesso di realizzare quasi soltanto sul volontariato, quindi nessuno scopo di lucro, tutti i cittadini che volontariamente hanno risposto alla nostra chiamata oppure si sono autoproposti e prepareranno e somministreranno il 90% di quello che troverete presso i padiglioni gastronomici. Le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Rufo, con il valido aiuto delle insegnanti e delle docenti e con il benestare della dirigente scolastica, contribuiranno a rendere più bella la nostra festa della castagna. La novità di quest'anno è un laboratorio per la produzione della pasta artigianale, anche questo si regge sull'offerta volontaria delle signore che lavoreranno la farina con l'acqua fino ad ottenere il risultato finale, la pasta. Il visitatore, abbiamo capito, che non si accontenta più solo di assaggiare il prodotto tipico, vuole guardare dietro le quinte, vuole capire quello che mangia, come è stato fatto, da chi è stato fatto. La castagna, che definiamo il frutto tipico delle nostre zone, è poi in effetti un frutto atipico, perché è un frutto che assomiglia molto di più ad un cereale, quindi si presta tantissimo alle preparazioni gastronomiche ed ecco perché è diventato, ed è stato nel passato, una fonte di alimentazione non indifferente per i nostri antenati. Abbiamo pensato di riempire ogni angolo, ogni vicolo, ogni piazzetta di questo percorso lungo il centro storico di musica, musica che possa accompagnare i visitatori nel passaggio da un padiglione gastronomico all'altro. Saremo lieti di poter estendere l'invito a tutti coloro i quali vogliono passare una serata all'insegna del divertimento, dell'allegria, gustare cibi di alta qualità, ci tengo a sottolineare questo, bere del buon vino, sentire della musica e dedicarsi ad un momento di convivialità, che per noi è un punto fermo di tutti i nostri progetti.